Dopo la spiaggia di Snoopy, Grado avrà anche Lido di Fido, uno spazio attrezzato dove i turisti del litorale possono trascorrere giornate di sole e di mare con i propri cani. All'interno della spiaggia della gite si potranno trovare dei caratteristici ombrelloni, sdraio per umani e animali, docce, zone attrezzate, oltre ad un comodo parcheggio per le auto. Due spiagge che lanciano un chiaro messaggio, non abbandonate i vostri cane ma portateli con voi anche in vacanza. L'isontino è così pronto a offrire ai turisti un servizio di sempre maggiore qualità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.